Siamo a Scoppito a pochi passi dal campo sportivo comunale e quella che vedete alle nostre spalle è la struttura ex ristorante molto noto a Scoppito e in città che dovrebbe andare ad ospitare alcune classi della scuola di Scoppito con la motivazione che servono spazi per il Covid. Non si placa, ha scoppito la polemica dopo la decisione del sindaco Marco Giusti di trasferire alcune classi della scuola elementare nei locali dell'ex ristorante La Bazzica. Il sindaco liquidò la polemica allora motivando la scelta con la necessità di avere spazi per il Covid visto che sarà smontato il MUSP per costruire la nuova scuola ma il comitato con i bambini non si bazzica presieduto dalla presidente Francesca Zia e assistito dall'avvocato Maria Leone non ci sta e chiede con una lettera aperta il blocco dello spostamento anche perché a loro giudizio i lavori per la nuova scuola non sono imminenti e per questo non c'è assolutamente ragione di effettuare il trasferimento. Per il comitato la struttura non si presta ad essere scuola per varie ragioni, non si conosce il grado di vulnerabilità, ci sono appartamenti privati sopra, c'è un problema di viabilità e parcheggi, ha una scala esterna che ha una barriera architettonica e cosa ancora più grave non al parere della ASD per la situazione igienico-sanitaria. Le ragioni del comitato spiegano sono state completamente ignorate e viene risposto sostengono che l'unica alternativa è portare i bambini in un altro istituto sottoponendoli ad un ulteriore stress dopo quello già notevole dell'emergenza pandemica. Nella lettera si rivolgono al preside dell'istituto chiedendo se questa strada è davvero percorribile visti tutti gli ostacoli ma c'è di più perché Francesca Zia spiega a Reteotto che ieri ha incontrato anche il sindaco e il dirigente scolastico. Il preside Gilberto Marimpietri, secondo quanto riferito dalla zia, ha chiesto al sindaco di tornare sui suoi passi anche perché i lavori sono ancora in corso a pochi giorni dall'inizio della scuola, condividendo evidentemente le ragioni dei genitori, dicono. In questo modo il comprensivo comenio, che ha sempre garantito un'offerta valida, rischia di divenire meno appetibile per queste ragioni, secondo i genitori. Alcuni genitori tra l'altro stanno tentando di iscrivere i propri figli altrove con mille difficoltà e dispiace perché la qualità del comenio è sempre stata alta, dicono. Dispiace insomma di vedere vanificati gli sforzi di preside e insegnanti che sono stati sempre un'eccellenza. Noi avevamo scelto loro questo il concetto e questa decisione non se la spiegano proprio.